Una bella partita combattuta fino alla fine, avete dimostrato contro una squadra di grande livello come il Pionta San Germain di riuscire a giocarvela fino all'ultimo. Sì, ma al grado avevamo diverse assenze, noi fino all'ultimo abbiamo letto abbastanza bene, poi nel finale purtroppo sarà la stanchezza, siamo un po' crollati. Il risultato per me è un po' bugiardo, forse sì, meritavano di venire loro, ma no, così largo scarto, insomma, ce l'hanno cavato abbastanza bene. Ecco, bella la realizzazione su calcio di rigore, anche un calcio di punizione che purtroppo, ecco, peccato, non ha dato a buon fine per poco. Una bella parata al portiere, è stato bravo, forse era un po' debole il tiro, però era riuscito a indirizzarla bene, peccato. Sarà per la prossima volta, speriamo che vada meglio.